Musica Nel Cividaleso un uomo ha aggredito sessualmente una bambina incontrata per caso in un bar grazie al racconto della piccola è stato subito arrestato Sgominata la banda dei furti di banco, matecarte di credito, quattro arresti prelievi per oltre 60 mila euro, scelacquati tra nightclub, cellulari e casino Fiumicello vuole la fusione, Villa Vicentina no, questo l'esito del referendum ma adesso la palla passerà alla regione oltre 700 mila presenze a gusti di frontiera, il sindaco Ziberna l'ha paragonata ad un appuntamento internazionale come l'Octoberfest sabato prima squadra e primavera a caccia di vittorie entrambe saranno impegnate con la Samp in vista di punti fondamentali Buonasera e benvenuti all'informazione di Udinese TV Buonasera anche a chi conduce questa edizione insieme a me, Nicola Angeli Buonasera anche ad Alice Matteloni per lo sport avete sentito i titoli, tante notizie quest'oggi anche di cronaca avremo un'ampia pagina di cronaca ma subito parliamo della sfida che attende l'Udinese e allora la parola torna a te Alice Buonasera Valentina, buonasera a tutti sono tante le notizie anche di sport ma noi apriamo subito con un comunicato un comunicato che riguarda le condizioni fisiche di Danilo vi ricorderete che è uscito dal campo per un infortunio durante la gara contro il Torino e allora la diagnosi è quella di una lesione fra il primo e il secondo grado del bicipite femorale della coscia destra quindi ora ci sarà un programma di recupero per il giocatore e ovviamente non lo vedremo in campo per un periodo però ci sono delle buone notizie per quanto invece riguarda le condizioni fisiche di Stipe Perizza che a breve rientrerà che chiedo scusa è tornato a lavorare con il gruppo mentre a breve rientrerà a lavorare con il gruppo Silvan Widmer che sta completando il proprio programma e allora parliamo invece di quello che è stato l'allenamento di oggi perché ovviamente è un momento molto delicato quello che sta vivendo l'Udinese dopo l'ennesima sconfitta quella di sabato contro la Roma ad Eusebio Di Francesco e si inizia a preparare già una nuova gara una nuova sfida quella contro la Sampdoria una gara che definirà il futuro dell'Udinese vediamo Ripresa degli allenamenti di lunedì per l'Udinese di Gigi Del Neri perché la settimana è corta per arrivare alla delicata e importante sfida casalinga di sabato alle ore 18 alla Dacia Arena contro la Sampdoria di Giampaolo vivono momenti opposti le due formazioni l'Udinese che è in crisi di risultati con 5 sconfitte in 6 partite di campionato che cerca ovviamente il riscatto mentre la formazione blucerchiata è riduce da una strepitosa vittoria altisonante contro il Milan 2 a 0 e un campionato che al netto della partita rinviata contro la Roma li ha visti praticamente sempre portare a casa punti mai una sconfitta finora per Duvan Zapata e compagni sarà l'ex probabilmente a guidare l'attacco della Sampdoria proprio a Udine insieme all'altro ex Fabio Quagliarella oggi però l'Udinese comincia una settimana intensa particolare che sarà condizionata anche dal ritiro fino alla giornata di sabato come di consueto alla ripresa degli allenamenti il gruppo è rimasto diviso in due con i titolari della partita contro la Roma che sono rimasti a fare una seduta personalizzata rispetto agli altri di scarico la classica seduta defaticante mentre tutti gli altri si sono allenati sul campo 3 del centro sportivo di Nobruseschi insieme anche ai tre elementi che hanno disputato parte nella gara di Roma vale a dire Pezzella, Fofana e Riad Baic tutti e tre insieme agli altri cercheranno di convincere Del Neri a utilizzarli dal primo minuto anche se ovviamente c'è una settimana di lavoro che ci dirà tante cose a cominciare dal modulo che dovrebbe tornare al 4-1-4-1 e poi quelle che saranno le scelte di Del Neri che si è assunto molte responsabilità di questo momento sa ovviamente che il momento è delicato e vuole una risposta da parte dei suoi ragazzi in campo a cominciare ovviamente dalla partita che abbiamo già definito importante e delicata di sabato pomeriggio e vediamo allora insieme quelle che sono le grafiche di questa sesta giornata di Serie A vediamo come sono andate le gare che si sono disputate come vedete Roma Udinese 3-1 Spalnapoli 2-3 la Juventus vince il derby 4-0 contro il Torino Sampdoria Milan 2-0 Caglia Richievo 0-2 Crotone Benevento è vinta dal Crotone 2-0 poi Inter Genoa 1-0 L'Elas Verona è sconfitta dalla Lazio per 0-3 Sassuolo Bologna 0-1 e Fiorentina Atalanta termina con un pareggio 1-1 un breve sguardo anche a quello che è la classifica della Serie A il Napoli appunto in cima alla classifica insieme alla Juventus con 18 punti segue immediatamente al terzo gradino del podio l'Inter con 16 punti e poi la Lazio 13 seguono Roma e Milan con 12 punti Roma ricordiamo però ancora una gara da disputare così come la Sampdoria immediatamente successiva a 11 punti col Torino tutta poi una serie di squadre con 8 punti e poi seguono Fiorentina 7 Cagliari 6, Sassuolo e Spal Crotone 4 e poi la nostra Udinese al quart'ultimo posto seguita da Genoa, Verona e Benevento Passiamo ora alla Primavera una risposta positiva è arrivata dalla formazione di Mr. Giacomin perché 2-5 è il risultato della gara di sabato contro il Napoli una gara perfetta da parte dei ragazzi appunto della formazione Primavera facciamo il punto Per un Udinese che non se la passa bene ce n'è un'altra che comincia a sorridere e ora può farlo in maniera totale se infatti la vittoria 4-3 in Coppa Italia col Parma aveva lasciato assolutamente non soddisfatto l'allenatore Giacomin per i tanti troppi rischi corsi il successo sul Napoli al centro sportivo Sant'Antimo con un perentorio 2-5 ha fatto vedere evidenti progressi dell'Udinese Primavera Giacomin stesso ha insistito spesso sul termine mentalità e i ragazzi bianconeri lo hanno accontentato il lavoro appagato e sul campo reso anche insidioso dal manto sintetico Varesanovic e compagni hanno giocato con Piglio non mettendo mai in discussione la vittoria contro una squadra che aveva battuto il Genoa impensierito il Chievo capolista guidati dalla classe dei fuori quota Giadi e Ali Mallet i bianconeri hanno surclassato il Napoli con una prova praticamente perfetta nonostante le due reti subite Risposte importanti sono arrivate anche dalla panchina con gli ingressi decisivi sul tabellino di Bocic e Joulou autori rispettivamente dell'assist del gol dell'1-5 che ha chiuso il match prima del gol bello quanto inutile di Palmieri una vittoria importante in una giornata che ha visto la frenata dell'Inter che non è riuscita ad andare oltre l'1-1 contro il sempre ottimo Chievo Verona ancora secco di vittoria la Juve sconfitta a domicilio dalla Roma per 1-2 mentre il Milan di Gattuso ha smosso la classifica battendo il Bologna scivolone anche per la Fiorentina in casa dell'Elas Verona mentre il Sassuolo continua la sua marcia superando il Toro 2-1 ritmi spaventosi anche per l'Atalanta che grazie a un'altra doppietta di Barro ha strapazzato 1-4 la Sampdoria Samp che sarà il prossimo avversario dell'Udinese a Manzano in una curiosa coincidenza la gara dei ragazzi di Giacomin sarà l'antipasto di quella ben più delicata della prima squadra di Del Neri chiamata a vincere cosa che vorrà fare anche la primavera per continuare la scalata in classifica Uva Resanovic che gol pazzesco e facciamo allora insieme una carellata anche dei risultati della classifica della primavera vediamo in sovraimpressione appunto i risultati di questa terza giornata Inter-Chievo si conclude 1-1 un pareggio quindi per l'Inter si ferma la sua corsa Juventus-Roma 1-2 Verona-Fiorentina 1-0 Lazio-Genua 0-1 e poi Napoli-Udinese 2-5 la Samp perde contro l'Atalanta 1-4 Sassuolo-Torino 2-1 e poi una vittoria del Milan contro il Bologna vediamo la classifica ora insieme alla cima della classifica con 7 punti troviamo Sassuolo-Inter-Roma-Chievo segue poi la Fiorentina con 6 punti insieme all'Atalanta e al Verona 4 punti per l'Udinese e per il Genoa e poi seguono Napoli e Milan con 3 punti 2 punti la Juventus e a seguire con 1 punto e 0 punti il Bologna, la Lazio e poi Torino e Sampdoria anche in questo caso con una gara da disputare per questa prima parte dedicata all'Udinese è tutto allora io vi ricordo che questa sera ci sarà ovviamente l'appuntamento con Udinese Tonight per approfondire tutte le tematiche relative all'Udinese soprattutto questo momento delicato dei bianconeri e per questo ci sarà collegato dal ritiro all'executive il direttore sportivo Manuel Gerolini quindi vi ricordo questo appuntamento e vi invito ovviamente a seguirci più tardi ci vediamo nella seconda parte del TG dedicato allo sport e passo la linea alla cronaca grazie Alice allora avete sentito il nostro titolo di apertura di questa sera ha cercato l'approccio sessuale con una bimba di nemmeno 10 anni è stato arrestato un uomo veneziano nel Cividalese sentiamo com'è andata terribile episodio di cronaca nel Cividalese un uomo italiano residente nel veneziano di età compresa tra i 40 e i 50 anni è stato arrestato dai carabinieri della compagnia della città ducale per l'ipotesi di reato di violenza sessuale ai danni di una bambina di meno di 10 anni adesso è in carcere e gli inquirenti coordinati dalla procura di Udine stanno cercando di fare piena luce sul terribile episodio accaduto nel pomeriggio di domenica da quanto emerso il fatto che ha dello sconcertante si è verificato a seguito di un incontro casuale all'interno di una toilette di un locale pubblico sito in un paese del Cividalese e secondo una prima ricostruzione l'uomo avrebbe cercato un approccio sessuale con la bambina esibendo i genitali e poi masturbandosi la piccola, scioccata dopo che l'uomo si era allontanata è corsa immediatamente ad avvisare i genitori i quali hanno allertato i carabinieri grazie alla descrizione fatta dalla stessa bambina e riferita dai parenti ai militari l'uomo è stato quindi individuato e arrestato nell'arco di pochi minuti il quadro per i militari è stato subito chiaro per le tracce che anche lui aveva addosso e per altri elementi raccolti nell'immediatezza sul posto adesso con l'aiuto di una psicologa la bimba sarà sentita per una ricostruzione della terribile vicenda oggi un'ampia pagina di cronaca allora la carrellata Nicola ci sono tre notizie che dal web richiamano la nostra attenzione la prima è quella relativa alla morte di un novantenne a San Lorenzo Isontino nella vicina provincia di Gorizia Emilio Pecorari fiamme nella notte in una casa di San Lorenzo Isontino a perdere la vita proprio la persona a cui abbiamo fatto riferimento adesso forse un cortocircuito la casa del rogo qui vedete anche stanno andando in onda le immagini che abbiamo realizzato sul posto proprio nel comune friulano in provincia di Gorizia la seconda notizia dal web alla quale facciamo riferimento durante questa prima carrellata invece Valentina è quella di un cittadino nigeriano fermato in treno con un chilo di eroina in pancia in tanti da casa sapranno che è consuetudine ingerire degli ovuli contenenti questo tipo di sostanza stupefacente e poi tentare la fortuna tra l'altro non serve dirlo ma insomma pratica molto pericolosa poi il soggetto è stato diciamo individuato dalla polfer come un cittadino sospetto è portato in ospedale a Udine dove è stato sottoposto ad un esame radiologico e quindi si è scoperto insomma che dentro di sé aveva tutta questa serie di ovuli fino a raggiungere una quantità di oltre un chilo di eroina pericolosissimo 115 ovuli della sostanza stupefacente un miracolo insomma che sia rimasto ancora in vita fortunatamente per lui e una terza notizia interessante è quella del tentato furto alla Autostar la concessionaria Autostar di Tavagnacco sappiamo molto bene dove si trova la concessionaria vedete qui abbiamo un video dalle nostre immagini da Udine Today prendiamo dell'arrivo vediamo un attimo se ce la facciamo ecco qua arriva una Golf Bianca con a bordo quattro persone che vediamo un attimo eccoli qua si appostano all'esterno del cancello armeggeranno per un paio di minuti per cercare di aprire il cancello e poi successivamente salendo e smontando dall'auto cercheranno di forzare i controlli o almeno il cancello fino a quando non scatta l'allarma insomma sono costretti ad andarsene tutto questo alla luce del sole auto che passano loro senza nessun problema scendono incappucciati con i loro arnesi e cercano di fare insomma i loro comodi non riuscendoci quindi questa è una buona notizia una good news dal web Valentina grazie Nicola la pagina di cronaca però non è ancora terminata perché oggi c'è stata anche una conferenza stampa da parte dei carabinieri sgominata una banda di malviventi protagonista tra dicembre e aprile di una serie di furti di banco bancomat e carte di credito tra le vittime anche l'ex bianconero Sirile Terò prendevano di mira le auto per poi sottrarvi carte di credito bancomat e banco posta facendo attenzione a non rubare contanti per non insospettire subito i derubati e fare prelievi agli sportelli bancomat con più comodità ovvio che la cosa che balzava subito l'occhio è stata la velocità quella quale poi successivamente nel momento in cui venivano a possesso delle tessere del bancomat i prelievi che erano effettuati immediatamente dopo abbiamo delle circostanze dove hanno effettuato anche 33 tra 4 prelievi all'insaputa del proprietario di questa tessera del bancomat anche con danni ingenti tant'è voglio dire che abbiamo delle parti offese con oltre 40.000 euro di prelievi una volta impossessatisi del denaro si davano alla pazza gioia facendo spese in tutto il Triveneto ma anche in Croazia e in Slovenia dove acquistavano cellulari andavano in nightclub e casinò i prelievi sono stati effettuati in tutto quanto il Triveneto abbiamo anche decine di prelievi effettuati lo stesso giorno e anche con prelievi di una certa importanza abbiamo avuto modo anche di monitorare e di censire delle spese effettuate anche all'interno voglio dire di locali rotturni locali di intrattenimento di casinò 4 le ordinanze di custodia cautelare in carcere eseguite in mattinata dai carabinieri di Cividale nei confronti di altrettanti cittadini di etnia nomade che hanno agito da dicembre 2016 ad aprile 2017 tra Udine Cividale e Premariacco dai militari dell'arma al termine di questa operazione arrivano anche due raccomandazioni ai cittadini qualsiasi tipo di tesser deve essere separato da quello che è il codice di identificazione il secondo aspetto e credo ancora più importante è di dare disposizione ai propri istituti di credito che ogni prelievo sia seguito da un sms una cosa semplicissima e anche gratuita che le banche mettono a disposizione nel momento in cui viene attuato un prelievo arriva il messaggio sul proprio cellulare questo è un ottimo deterrente passiamo ora all'economia presidio dei lavoratori della Bob Martin in Via Lungheria quest'oggi davanti alla sede dell'associazione piccole e medie imprese dove si è svolto un nuovo vertice con i sindacati un mese di moratoria a costo zero è questo che l'azienda è disposta a concedere ma i paletti imposti dalla proprietà non sono stati ben accolti dai lavoratori un mese di moratoria ma a costo zero e quanto hanno strappato i sindacati nella trattativa con la Bob Martin condotta per conto dell'azienda dall'API l'associazione piccole e medie imprese un mese senza retribuzione per i lavoratori e senza maturazione di tredicesima quattordicesime ferie inoltre tra i paletti imposti dalla proprietà la cessazione dello sciopero e il pieno accesso allo stabilimento oltre al mantenimento di un clima positivo per non compromettere la reputazione dell'azienda è vero che fino alla scorsa settimana la Bob Martin aveva concesso solo 15 giorni di tempo ma le imposizioni non sono piaciute ai dipendenti riuniti in presidio in via Lungheria sotto la sede dell'API ora aspetterà i 72 lavoratori decidere se accettare o meno l'accordo presente anche l'assessore comunale Federico Pirone che non ha potuto che riscontrare un atteggiamento molto duro da parte della proprietà e che ha assicurato il pieno appoggio dell'amministrazione ai lavoratori inoltre l'esponente della giunta a Onsel ha garantito che Palazzo da Ronco non intende cambiare destinazione d'uso all'area su cui sorge lo stabilimento di Santo Osvaldo ci sono altri aggiornamenti in merito anche a un'altra situazione difficile in regione quella della Roncadine allora vediamo che cosa si dice sui social Nicola la pagina social della Roncadine di Meduno Valentina è sempre molto attiva hanno seguito in maniera pedissequa come si direbbe tutta la questione dell'incendio anche la ripartenza e è di 18 minuti fa questo post insomma sulla fanpage della Roncadine e domani Roncadine riparte quindi abbiamo l'ufficialità anche se l'avevamo anticipato pure prima che domani si ripartirà con le linee 5 e 6 sappiamo che le altre sono state distrutte dall'incendio che si è verificato la scorsa settimana e che abbiamo dato ampiamente notizia e ci sono un po' di foto insomma alla fine si fanno pizze alla Roncadine quindi ci fanno vedere quello che succede insomma un plauso alla Roncadine perché i dipendenti hanno accettato il 7 su 7 e i turni notturni per ripartire e un plauso anche a chi segue la fanpage perché effettivamente è fatta molto bene complimenti da parte mia perlomeno sì molto attenti nell'aggiornare la pagina di Roncadine e appunto anche attenti insomma a quello che riguarda l'occupazione e anche gli accordi che sono stati siglati con i lavoratori passiamo ora alla politica perché Alberto Terasso ha intervistato ha sentito l'ex presidente della regione Renzo Tondo ha parlato di vari argomenti anche in vista delle regionali del prossimo anno anche di Massimiliano Fedriga il capogruppo della Lega Nord in Parlamento ne ha parlato anche Renzo Tondo proprio con Massimiliano Fedriga oggi in un incontro in merito alla montagna ma sentiamo intanto che cosa ha detto Alberto Terasso per l'agendina di quest'oggi Riccardo Fedriga e che se la vedano loro a Roma pregi e difetti dell'uno e dell'altro ma non scopro niente se confermo che Riccari è stato un ottimo amministratore perché se oggi abbiamo la Pilesse Gorizia dobbiamo l'impegno suo e la tenacia con cui sa fare le carte fare i dossier questo è il pregio fondamentale è la grande capacità di lavoro senza dubbio ha un difetto che non è banale che caratterialmente è una persona abbastanza ruvida e tende almeno finora ho visto troppe volte prevalere un senso di esclusione e un senso di inclusione comunque tutti possiamo maturare Fedriga ha due ha un pregio forte che è un ragazzo molto in gamba ottima capacità di rappresentazione sui media televisivi è molto sveglio intelligente gli manca l'esperienza amministrativa e credo che abbia comunque un deficit territoriale perché comunque l'unico candidato triestino che vinse fu Riccardo Illi che in realtà era un uomo che andava oltre anche il Friuli quindi credo che ci sia un problema in tanti casi Villa Vicentina ha detto no alla fusione con Fiumicello aspetterà ora al Consiglio Comunale l'ultima parola per chiedere alla Regione di andare avanti con il procedimento oppure archiviare definitivamente il capitolo a Fiumicello il matrimonio lo vogliono a Villa Vicentina no è questo l'esito del referendum per la fusione dei due comuni della bassa friulana tenutosi ieri e al quale hanno partecipato il 45% degli aventi diritto lo scrutinio delle schede protratosi fino a tarda notte ha visto 987 sì e 672 no a Fiumicello mentre sono stati 366 i sì e 405 i no a Villa Vicentina cosa succederà ora si profila la stessa situazione verificatasi nel novembre scorso a Gemona e Montenars quando nel comune più grande i favorevoli all'aggregazione furono la stragrande maggioranza ma nel paesino più piccolo le volontà furono ribaltate portando ad archiviare definitivamente il percorso di fusione la legge specifica che il referendum ha natura meramente consultiva e quindi la Regione potrebbe andare avanti comunque a celebrare le nozze entro 60 giorni dal sindaco di Villa Vicentina però arriva alla presa di coscienza alla luce del voto diciamo che io non solo io ma tutta la maggioranza non può ignorare diciamo questi voti e quindi porteremo l'attenzione del Consiglio Comunale per bloccare questo progetto metteremo i voti in ogni singolo consigliere liberamente sarà la mano oppure non sarà e quindi a seconda del risultato che avremo andremo avanti o meno e allora decisivo sarà il Consiglio Comunale convocato per venerdì sera La pioggia caduta domenica non ha guastato la festa di Gusti di Frontiera la Kermessa ha totalizzato comunque oltre 700 mila presenze con i 350 stand che hanno riscontrato un aumento delle vendite per il Sidaco Zibern la manifestazione è diventata come l'Octoberfest vediamo perché Gusti di Frontiera come l'Octoberfest diventa un momento per riunire degli amici amici che abitano in luoghi lontani in altre regioni d'Italia in altri luoghi d'Europa ecco tanto come è accaduto a me di ritrovare vecchi amici approfittare di Octoberfest per ritrovarmi con questi amici che non vedevo da tanti anni così è accaduto a me essere testimone Gorizia ci sono appunto queste rassembleman ormai famiglie o amici che non si vedono da tanto tempo e che abitano lontani l'una dagli altri approfitto di questa occasione perciò ci si ritrova veniamo a Gorizia perché appunto non è soltanto un assaggio certo un momento culturale perché io ho sempre sostenuto il vino e la birra e che sono cultura il cibo e cultura ma assolutamente è una festa il piacere di condividere una cosa bella quando uno viene qui a Gorizia e perciò è presente a Gusti di Frontiera ha il piacere di condividere con gli altri e guarda era in un luogo stupendo eccezionale e allora il nostro piacere è quello di fare in modo che pochi minuti in questi giorni a Gusti di Frontiera per questa festa magari si è incuriosito e si è spinto magari a ritornare in un altro momento magari senza gusti di frontiera per poter godere tutto quello che la nostra città è capace di esprimere mi riferisco questo sì ad altri momenti culturali altri luoghi della cultura che in Gorizia offre e prima delle ultime notizie di sport una fake news che arriva direttamente dalla nostra pagina dell'Udinese.it sì non dalla pagina dell'Udinese o meglio c'è una fanpage che è stata individuata come fake da parte dell'Udinese Calcio del legale dell'Udinese Calcio che si appropria indebitamente di quelli che sono i marchi e le notizie dell'Udinese questa Udinese Calcio 1896 Udinese supporters worldwide unofficial gaffering così ti ho detto anche un po' di sfoggio del mio inglese scolastico Valentina la società comunica che è stata formulata di fida legale nei confronti di Facebook che in questo caso è proprio chi gestisce la cosa non direttamente ovviamente ma che si deve occupare di far fuori possiamo dire così in termini spicci insomma questi gestori o questa fanpage che indebitamente sia propria di scritte disegni immagini grafiche immagini fotografiche mediante le quali si abusa gravemente del nome e del logo dell'Udinese Calcio SPA quindi in questo caso Udinese un po' contro Facebook la spunterà l'Udinese dai Benissimo Nicola grazie allora adesso la seconda parte dello sport a te Alice Grazie Valentina allora appunto ci colleghiamo benissimo con questa notizia che tra l'altro avremo il modo di approfondire durante il corso della serata di questa sera ma ora passiamo invece al Pordenone perché continua la striscia positiva in campionato della squadra di Mister Colucci che porta a casa un'altra vittoria questa volta contro il Teramo per 4 a 2 è una vittoria che gli garantisce appunto di spiccare in classifica fra tutte le altre squadre avendo il Vicenza pareggiato contro il Feral Pisalò il punto la Susso la Soletta in testa la classifica con un'altra prova brillante e convincente il Pordenone continua ad allungare la sua striscia positiva in Serie C e approfitta prontamente del pareggio interno del Vicenza contro il Feral Pisalò la vittima di turno è il Teramo che pure aveva ben impressionato in avvio di stagione ma che nulla può contro la forza devastante dei Ramari in un bottecchia inviolabile il match si chiude già nel primo tempo con Dejan Danza alla sua prima da titolare che porta in vantaggio in nero-verdi dopo appena nove minuti la sua danza del gol è il caso di dirlo prosegue anche nel secondo tempo quando sigla la doppietta che vale il momentaneo 4 a 1 mentre prima dell'intervallo sono le reti di Gerardi e Sainz Mazza a tenere il Teramo a distanza di sicurezza inutili nella ripresa le marcatura di Ilari e Barbuti quest'ultima su rigore con cui gli abruzzesi cercano di accorciare le distanze il Pordenone controlla agilmente un match già suo e porta a casa vittoria primato anche se le ingenuità sui due gol avversari non sono piaciute al tecnico Colucci piccoli dettagli per rendere da 10 e l'ode una squadra già da 9 e mezzo ma per un obiettivo ambizioso come la Serie B il perfezionismo non è mai troppo la testa quindi è già al Feralpi e il successivo doppio impegno casalingo con Gubbio e Ravenna un microciclo che può ulteriormente rafforzare primato e autostima dei Ramarri il nostro ultimo servizio è per gli amanti del basket che saranno sicuramente in fermento per l'inizio del campionato mancano infatti quattro giorni e il morale della GSA e di tutti i suoi tifosi è senz'altro alto proprio per il buonissimo precampionato disputato e allora vediamo l'intervista a Davide Mikalic l'attesa finalmente sta per finire ancora quattro giorni e la Serie A2 della Palla Spicchi prenderà ufficialmente il via sul parquet del Carnera dove la GSA attende la fortitudo nell'anticipo di lusso di venerdì sera l'ottimismo non manca in Casa Bianconera dopo un lungo precampionato dai segnali incoraggianti e chiusosi con la bella vittoria sulla Tezenis Verona questo precampionato ha detto che la squadra ha potenzialità che è una squadra lunga e profonda e poi verificheremo le vere potenzialità di ogni giocatore Al contrario della tranquillità che si respira a Udine acqua agitata in quel di Bologna per i numerosi infortuni e la decisione di coach Bonicciolli di sospendere l'ultima amichevole Arieti guai però secondo il GM Mikalic pensare di partire avvantaggiati I attori sono anche fenomenali perché amano mettere sempre le mani avanti e costruirsi il territorio il terreno giusto per poi affrontare la partita io non credo a queste cose credo che ognuno deva guardare la casa sua la fortitudo verrà a Udine per vincere però noi andremo in campo per vincere sicuramente la squadra che la vuol giocare con tutti poi dopo come arriverà in fondo non si sa ma è una squadra costruita per arrivare fino alla fine e per potersi giocare la vittoria ogni domenica io credo che sarà una grande partita io credo che chi non verrà sbaglierà sarà una grandissima serata di palacanesso si riapre ufficialmente la Carnera con Udine e Fortitudo meglio di così e poi noi vogliamo vincere E ancora una notizia che riguarda la festa dello sport 2017 una festa organizzata dal CSA IN un ente riconosciuto dal CONI centri sportivi aziendali e industriali che si terrà dal 29 settembre al primo ottobre a Lignano Sabbiadoro sono ben 500 atleti provenienti da tutta Italia per le tantissime gare e sport previsti spaziamo dalle arti marziali al beach volley dal calcio alla ginnastica artistica ma non solo nuoto pesca sportiva scacchi tennis se tiro con l'arco potrete vedere anche in sovraimpressione quello che è il programma appunto dell'evento un programma molto vario tutte proposte tutte iniziative all'insegna di promozione di attività sportive culturali assistenziali e ricreative del tempo libero e questa per oggi era l'ultima notizia io vi ringrazio ma passo la linea alla cronaca ancora per le ultime informazioni Sì, è l'ora delle previsioni del tempo per domani su tutta la regione cielo in prevalenza poco nuvoloso al mattino variabile nel pomeriggio con maggiore nuvolosità sul Tarvisiano sarà possibile in giornata qualche locale breve pioggia più probabile sui monti sulla costa soffierà Bora Moderate con questo è tutto vi ricordiamo l'appuntamento alle 21 con Udinese Tonight non perdetevelo e dalla redazione di Udinese TV una buona serata a tutti Grazie a tutti